Se fosse una cittadella sotto assedio, la giustizia o meglio i magistrati oggi avrebbero subito un attacco pesante, ma a difenderli avrebbero trovato un'inedita coppia di alleati, uscita peraltro sconfitta dallo scontro. È accaduto tutto al Senato quando la Commissione Giustizia vota quella che è già stata ribattezzata la norma anti-esposito. Dal nome del giudice di Cassazione, intervistato con grande scandalo dal mattino di Napoli, pochi giorni dopo la sentenza di condanna per Silvio Berlusconi. Ebbene, secondo questa norma, proposta dall'ex ministro di Grazia e Giustizia Francesco Nitto Palma del PDL, verrà sottoposto ad azione disciplinare il magistrato che avrà reso dichiarazioni che, leggiamo testualmente, per il contesto sociale, politico e istituzionale, rivelano l'assenza di indipendenza e dell'imparzialità richieste per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. Insomma, attenzione a quello che si dice, a come lo si dice, a dove lo si dice, pena appunto un'azione disciplinare. La norma, che lo ricordiamo dovrà però passare dall'Aula e dunque potrebbe essere modificata, è stata votata ovviamente dal PDL, da Scelta Civica, dalla Lega e da Gal. Contrari, e qui ecco l'inedita accoppiata, PD e Movimento 5 Stelle, mentre era assente il rappresentante di SEL. E sono proprio gli esponenti del movimento pentastellato a gridare soprattutto allo scandalo per questa norma, definendola vergognosa, mentre si oppone Nitto Palma, sottolineando come non solo non serva nello specifico per punire il giudice esposito, ma sia la riproposizione di una legge già presentata alla scorsa legislatura e riproposta agli inizi di questa. Grazie a tutti.